Reddito di cittadinanza. Qui ho sentito dire ovviamente un po' di tutto, intanto che cosa ha fatto il governo? Il governo ha mantenuto fede agli impegni presi. Noi abbiamo sempre sostenuto che uno Stato giusto non dovesse mettere sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo, che le due cose siano molto diverse e che uno Stato giusto dovrebbe mettere in sicurezza sul piano dell'assistenza chi non è in condizione di lavorare, disabili, anziani, famiglie senza reddito, con minori a carico, ma che per tutti gli altri, per coloro che possono lavorare, uno Stato giusto dovesse creare le condizioni per avere lavoro. E quello che intendiamo fare è che in parte cominciamo a fare perché nella manovra finanziaria c'è ad esempio una decontribuzione totale per chi assume alcune categorie di persone, tra cui i percettori di reddito di cittadinanza. Dopodiché abbiamo stabilito che alla fine del prossimo anno 2024 chi può lavorare non avrà più il reddito di cittadinanza, che nel 2023 il reddito di cittadinanza si potrà percepire per massimo otto mesi e che in ogni caso, nella prima volta in cui viene rifiutata una proposta di lavoro, il reddito di cittadinanza decadrà. E qui ho sentito dire un po' di tutto. In primis ho sentito dire che noi facciamo cassa sui poveri. falso. Atteso che tutti i soldi che possiamo recuperare da queste nostre scelte sul reddito di cittadinanza vengono tutte reinvestite sulla possibilità, su chi è più in difficoltà e sulle possibilità, come ho detto prima, di creare nuovo lavoro. Ho sentito dire anche qualcuno che diceva la Meloni ci toglie il reddito e ci costringe ad andare a rubare. Tra il reddito e rubare, l'opzione di andare a lavorare forse la dovresti anche prendere in considerazione, e anche qui è vero che il lavoro è difficile in Italia, però forse non è neanche così difficile come alcuni pensano. Voglio dire, ci sono diverse aziende che chiedono al governo, nell'ambito del decreto flussi sull'immigrazione, di fare entrare alcuni immigrati che servono loro per fare dei lavori. E io ho chiesto quali fossero i contratti con i quali questi immigrati regolari che noi vogliamo fare entrare in Italia avrebbero lavorato, e mi è stato risposto il contratto collettivo nazionale. Ora, il contratto collettivo nazionale è un contratto che ha, diciamo, tutte le garanzie. È un contratto che ha normalmente una retribuzione dignitosa, perché ci sono dei minimi, malattia, ferie, tredicesima, TFR. Io penso che tra il reddito di cittadinanza andare a rubare, scegliere di fare un lavoro dignitosissimo, di qualsiasi genere, per il quale pare che noi chiediamo immigrati da fare entrare in Italia, perché non si trovano gli italiani che li vogliono fare, sia decisamente meglio. Quindi quello che io voglio fare è aiutare le persone a uscire dalla loro condizione di povertà con il lavoro, perché il lavoro ti può portare ovunque, mentre il reddito di cittadinanza ti mantiene dove sei.